Il portiero, la distruzione, cioè tutto era incentrato alla distruzione della famiglia del portiero, proprio fin dagli albori del portiero, in maniera rossa, rudimentale, primordiale, non so se è la genesi di queste portierie, di queste portierie, però il portiero ha provato tutto, basta leggersi, dico sempre alle commissioni regionali di leggersi questa sentenza di primo grado, perché ogni virgola, ogni parola ha un peso molto importante, sia che si capisce tutto, si capisce tutto e anche cosa ha ispirato questi anni innovanti e tutto il resto, non credo che non si possa fare analogie come il ciclo, dicono i cicli, proprio il ciclo, ci fanno arrivare questi messaggi ultimamente in un'associazione da parte di strani amici grazie a Sergio Pietro Cito, Presidente della Scusione Vittime del Porteto, grazie a Cappella Bonsani, coordinatrice provinciale di Pisa ma anche di Cisindaco naturalmente e grazie soprattutto a Maurizio Tertorelli.